Il sindaco di Taranto, Ipazio Stefano, chiede chiarezza sui picchi di diossina registrati nel quartiere Tamburi tra il novembre 2014 e il febbraio 2015 e per questo si rivolge al Ministro dell'Ambiente e al Ministro della Salute affinché avvino un'indagine ministeriale. Il sindaco fa riferimento ai dati riguardanti un'attività di monitoraggio ambientale condotta dall'ingegner Maurizio Onofrio del Politecnico di Torino per conto dell'ILVA. Le analisi effettuate da due laboratori sono stati resi noti solo pochi giorni fa a distanza di un anno. I cittadini, spiega il sindaco, hanno manifestato una certa preoccupazione, cercando chiarimenti e certezze sull'attendibilità dei dati forniti da diversi organismi scientifici, istituzionalmente preposti al controllo e apparsi contrastanti. Si avverte il bisogno, aggiunge Stefano, che su questa vicenda sia fatta piena luce, per cui si chiede a codesti ministeri, per la parte di rispettiva competenza, che si disponga per una indagine ministeriale per ripristinare le condizioni di verità, lo scopo di soddisfare sia le aspettative di tutela della salute e dell'ambiente, che così pressamente la città reclama e delle quali ne siamo sentitamente portavoce, sia anche per prefigurare tutte le necessarie azioni a tutela della collettività. Le due signore malate di tumore avevano scelto di eseguire l'esame presso il Vito Fazzi di Lecce, con tempi d'attesa più lunghi, rinunciando alla prima data utile garantita dall'azienda in altre strutture. L'ASL di Lecce, dopo il clamore suscitato dalla vicenda delle due donne operate di tumore e con l'attac fissata al 2017, interviene fornendo le necessarie delucidazioni. Il caso era rimbalzato nei giorni scorsi dopo la denuncia del Tribunale per i diritti del malato. Il primo caso, spiega l'ASL, riguarda una paziente in trattamento chemioterapico presso il Deiospital Oncologico del Vito Fazzi, ma seguita da un centro extra-regionale. È stato richiesto nel mese di febbraio un approfondimento diagnostico TAC addome completo con mezzo di contrasto. Il medico di medicina generale della donna ha prescritto l'esame in data 22 febbraio 2016 e la signora il giorno successivo si è rivolta al CUP per la prenotazione. Pur essendoci disponibilità ad eseguire la TAC presso l'ASL e nelle strutture accreditate, già a partire dal 19 aprile, la signora ha preferito voler eseguire la prestazione specificatamente presso la radiologia del Fazzi, accettando così la data del 20 ottobre 2017, prima data utile. Successivamente ha segnalato al Tribunale per i diritti del malato il lungo tempo d'attesa. Il 4 marzo 2016 il direttore della radiologia del Fazzi, dottor Torsello, previa valutazione clinica della documentazione esibita dalla paziente, le ha prenotato per il giorno 8 marzo 2016 una risonanza magnetica alternativa alla TAC per verosimile episodio allergico avvenuto durante una precedente TAC. Il secondo caso è molto simile al primo, riguarda una paziente in trattamento chemioterapico presso il Dei Hospital Oncologico del Vito Fazzi. Il 10 novembre 2015 la signora ha prenotato presso il CUP del Fazzi TAC torace e addome con mezzo di contrasto e le è stato fissato appuntamento per il giorno 1 marzo 2016 presso l'ospedale di Copertino. Il 29 dicembre 2015 la paziente si è ripresentata al CUP per spostare la prenotazione dal presidio ospedaliero di Copertino a quello di Lecce, ottenendo come prima data utile il 9 giugno 2017. A febbraio 2016 la signora ha presentato la sua segnalazione al Tribunale per i diritti del malato. È evidente quindi come a nessuno sia stata prenotata un ATAC ad un anno e mezzo, concludono dall'ASL. In entrambi i casi le signore hanno scelto di eseguire l'esame presso il Vito Fazzi di Lecce, con tempi d'attesa più lunghi, rinunciando alla prima data utile garantita dall'azienda in altre strutture. L'ASL è tenuta a garantire le prestazioni specialistiche in tempi certi su tutto il territorio, ma non a consentire la scelta del medico o della sede presso la quale eseguire la prestazione. Ad oggi le disponibilità di esami TAC per esterni nella ASL di Lecce sono al di sotto dei 60 giorni previsti dal piano regionale per il contenimento dei tempi d'attesa. Una delle due pazienti però replica tutto falso, non mi hanno proposto nessuna struttura alternativa al Fazzi e ci sono anche i testimoni. Il mondo dell'associazionismo salentino si muove compatto in vista del referendum previsto per il 17 aprile, quando gli italiani saranno chiamati a esprimersi sulla possibilità di rinnovo delle concessioni per la ricerca di petrolio a 12 miglia dalla costa. Una causa comune che soprattutto grazie al web ha fatto nascere la rete intercomunale NoTriV Salento, una lista di associazioni, gruppi e singoli cittadini che si sosterrà a vicenda nella promozione del sì alle consultazioni referendarie, agendo in comunità di intenti. Sabato scorso il Palazzo Marchesale di Galatone ha ospitato la costituzione di un comitato cittadino. A relazionare sulla situazione problematica a livello politico il sindaco di Salve, Vincenzo Passaseo, già da tempo attivo nella battaglia contro le trivellazioni. La nostra lotta è contro un governo sordo che non ha voluto ascoltare i territori, territori che chiedevano a gran voce sei quesiti contro le trivelle. In una maniera o nell'altra siamo arrivati soltanto ad uno. Siamo in attesa di una sentenza che sarà pronunciata mercoledì prossimo, il 9 di marzo, con la speranza che si possono attivare anche gli altri due quesiti e quindi poter eventualmente slittare il referendum un po' più in là, perché il gioco sporco che ha fatto il Governo centrale è quello di non dare il giusto tempo alle associazioni, ai comitati, alla cittadinanza intera di poter avere il tempo necessario per portare più gente possibile al voto e quindi non raggiungere il quorum come dicevo prima. In questa situazione noi siamo qui a costituire questo comitato nella speranza di poter coinvolgere quanta più gente possibile e poter raggiungere il quorum. è importante partecipare a questa forma di democrazia, forse l'unica che ci resta, per poter difendere il nostro mare. Fa piacere vedere a tanti giovani, segno che l'argomento è molto sentito e vogliono anche loro spendersi in prima persona. Speriamo nell'adesione anche degli altri e soprattutto che ci sia un coordinamento forte per poter salvaguardare il nostro mare. Le associazioni ambientaliste sono nettamente contrarie alle perforazioni petrolifere perché si tratta di operazioni che comportano enormi rischi a fronte di benefici molto molto limitati e con grandi danni ambientali. Questo referendum va visto come un'occasione per rimettere in discussione tutto il nostro modello energetico che per molti anni, per più di mezzo secolo si è basato sulle fonti fossili e su un modello accentrato di distribuzione dell'energia. Noi oggi con questo referendum abbiamo la possibilità di dare uno stop decisivo all'espansione dei consumi petroliferi e invece favorire un modello decentrato, basato sulla generazione diffusa, sull'autoproduzione, quindi sull'autosufficienza energetica di ogni utenza, naturalmente basata sulle fonti rinnovabili, quindi sulle fonti pulite. Presentato presso la sede dell'Ordine dei Medici, Chirurghi o Dontoiatri della provincia di Bari, Eurocare 5, un progetto europeo di ricerca sulla sopravvivenza al cancro, promosso dall'Istituto Tumori di Milano e dall'Istituto Superiore di Sanità. I dati del rapporto dimostrano che le percentuali di sopravvivenza al tumore sono più elevate nei paesi che investono di più nella sanità. Italia ha gli ultimi posti e regioni del sud penalizzate rispetto al nord. La Puglia spende 7 miliardi e 100 milioni all'anno contro l'Emilia, per esempio, che è la stessa popolazione e ne spende 8 miliardi e 700 milioni, quindi oltre un miliardo e mezzo di differenza e questo naturalmente incide notevolmente sulla qualità dei servizi e sull'efficacia delle cure. Anzi, devo dire che nonostante questa differenza, la capacità del personale sanitario, dei medici di dedicarsi alla cura del paziente ha consentito in Puglia di mantenere in ogni caso degli ottimi livelli di assistenza. L'attesa è finita. Aperto ufficialmente i battenti, nell'ex masseria Ghiermi, un tempo immobile nelle mani della mafia, il primo centro per i senza fissa dimora di Lecce. Negli anni 80 era infatti il covo del bosso della Sacra Corona Unita di Surbo, Angelo Vincenti, ritenuto il mandante della bomba andata a vuoto sul rapido Lecce-Zurigo del 5 gennaio 1992. Dopo la confisca diventò bene di proprietà del comune di Lecce nel 1998. L'amministrazione di Palazzo Carafa, dopo un lungo iter durato diversi anni, ha mantenuto la promessa e grazie ai fondi PON, Sicurezza per lo Sviluppo, ha trasformato la struttura in un bene comune destinato ai senza tetto, ampliando l'offerta già fornita dalla Caritas e dalla comunità Emanuel di posti letto e assistenza ai bisognosi. Sarà proprio quest'ultima, per i prossimi tre mesi, a occuparsi della sua gestione, in vista dell'avvio di una gara pubblica, come previsto per legge, destinata all'affidamento definitivo della struttura ad una cooperativa sociale. Una responsabilità importante, come l'ha definita padre Mario Marafioti, fondatore della comunità Emanuel, che comporta una serie di sfide e difficoltà a cui bisognerà far fronte quotidianamente. Il dormitorio, dotato di 25 posti letto, servizi igienici, un refettorio, una cucina, una stanza dedicata ad attività di svago e uno spazio per eventuali visite mediche. In un plesso staccato si trova invece la casa per il custode e tutto intorno il parco. Ci sono molte difficoltà, detto padre Mario, che però noi vogliamo affrontare, perché una vita umana vale più del cielo e della terra. Una visita guidata sperimentale all'interno del Museo Castromediano di Lecce, per raccontare come i ruoli e gli stereotipi femminili sono stati rappresentati nella storia, attraverso le raffigurazioni sui vasi, sulle tele o raccontati nei testi. Questa è la singolare iniziativa promossa dal Museo Provinciale in occasione della Festa della Donna. Diversi percorsi tra archeologia, storia dell'arte e letteratura. Si parte con il racconto di alcune figure di donne dell'antichità, da cui trarre spunto l'Atena, al tempo dea della guerra e dell'intelligenza, la corrotta Erifile, eletta suo malgrado giudice arbitro, la dolce Arianna, sposa innamorata e abbandonata, e ancora Antigone, la figlia devota e sottomessa e sorella ribelle. A seguire la narrazione si sposta in età moderna, con la santità di Margherita e di Maria Maddalena, nel dipinto di Lorenzo Veneziani, l'adultera di Paolo Finoglio, l'artista con le opere di Agopittura di Marianna Elmo. Infine, i due ruoli principali dell'essere donna, madre e sedutrice saranno illustrati nelle opere di Geremia Re ed Eugenio Maccagnani. Per concludere, uno sguardo ad alcune letterate e scrittrici tra 800 e 900 legate al Salento attraverso i loro testi, prestati per l'occasione dalla Biblioteca Provinciale Bernardini di Lecce, da Adele Lupo a Maddalena Santoro, da Clementina Salvi Martello a Giulia Lucrezzi Palumbo. Con questa iniziativa abbiamo voluto raccontare la donna in maniera diversa, dichiara Simona Manca, consigliera provinciale delegata alla cultura. Un escursus temporale che illustra come i ruoli della donna sono stati raccontati e come si sono modificati nel tempo e come invece alcuni stereotipi sono rimasti inalterati nei secoli. Archiviato il mezzo passo falso registrato in casa contro il Melfi, i giallorossi sono tornati a lavoro in vista dell'impegno in trasferta che sabato pomeriggio li vedrà opposti al Monopoli. Il Lecce dovrà cercare di fare risultato contro la formazione di mister Tangorra per proseguire la striscia positiva e rimanere ancorati alle prime posizioni in classifica. Ieri pomeriggio Capitan Papini e compagni sono stati impegnati in una seduta pomeridiana presso la cittadella dello Sport di Martignano. A riposo Dumbià che nella sfida di domenica scorsa in uno scontro di gioco ha riportato una ferita alla fronte per la quale sono stati necessari alcuni punti di sutura mentre Gianluca Freddi ha seguito un programma di lavoro personalizzato. Oggi in programma una doppia seduta al mattino a Porti Aperte al Via del Mare nel pomeriggio a Martignano dove i calciatori si alleneranno a porte chiuse. Venerdì verrà discusso il ricorso del Lecce contro la squalifica di tre giornate a mister Braglia nella speranza che la squalifica possa essere ridotta almeno di una giornata. Se così fosse Braglia potrebbe tornare in panchina per la partita contro il Catanzaro del 21 marzo prossimo. Mentre potrebbe arrivare in giornata la decisione della seconda sezione della Corte federale di appello della Federcalcio chiamata a pronunciarsi sul ricorso della Casertana che ha chiesto di ottenere la vittoria a tavolino del match contro il Lecce giocato il 30 gennaio scorso e finito sul campo 1-1. Risultato peraltro già omologato dal giudice sportivo della Lega Pro Pasquale Marino. Grazie. Grazie.